Nel corso dell'ultima assemblea il Consorzio tutela Bini d'Abruzzo approvato la proposta dell'attivazione dell'articolo 39 come previsto dalla legge 238 del 2016 con la quale si chiede alla regione Abruzzo di introdurre misure per la gestione delle produzioni finalizzate a superare gli squilibri congiunturali di mercato e affrontare nel migliore dei modi la prossima vendemmia. È un articolo che ci permette appunto di gestire e camminare quella che è l'offerta e la domanda. Nello specifico si reclama la necessità di disciplinare l'iscrizione dei nuovi vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità della rivendicazione per la DOC Montepulciano d'Abruzzo e l'IGT Pecorino e allo stesso tempo di attuare sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini in modo da gestire i volumi di prodotto disponibili. L'offerta del nostro Montepulciano d'Abruzzo e del Pecorino perché erano queste due i vitigni e le denominazioni messe in discussione in assemblea sono superiori rispetto alla domanda. Ovviamente per una banalissima legge di mercato è ovvio che il prezzo sta scendendo soprattutto del Montepulciano in maniera molto vertiginosa e sappiamo perfettamente che il pile enologico regionale per più dell'80% è retto proprio dal Montepulciano d'Abruzzo quindi un intervento proprio per la gestione dell'offerta in funzione della domanda si è reso necessario. Tengo a precisare che non è il primo anno, sono già due o tre anni che noi proviamo a lavorare con questa misura. La proposta approvata in assemblea dai soci produttori del consorzio è stata inviata alla regione Abruzzo che dovrà ora, si augura il consorzio, emanare il relativo provvedimento entro non oltre fine mese altrimenti si rischia di creare un effetto boomerang. Speriamo che quest'iter amministrativo possa aprirsi e chiudersi nel più breve tempo possibile perché l'applicazione del bloccaggio sulla vendemmia 22 deve essere nel più breve tempo possibile attuato anche perché si potrebbero creare delle distorsioni di mercato in quanto i contratti che potrebbero concludersi sarebbero zoppi nel caso in cui c'è in ballo l'approvazione di quest'articolo. Quindi ripeto, speriamo che i tempi siano brevi in modo da poter avere tutta la situazione chiara e tutti gli operatori possano svolgere le proprie funzioni con tranquillità, serenità e ripeto, chiarezza.